Milano, ma che stava a dirlo? Slepire con tuzze per voi! Ma stava a chiamarle, noi arrivavano. Ciao, benvenuti al centro commerciale Due Mari. Tante persone hierin, noi arrivavano. Tu vesti al centro commerciale dove mi è vederti. Slepa a chiamarle, noi arrivavano. È di questo tempo, la nata. Slepa a chiamarle, noi strengthening. È di questo tempo. Petri County, Pdha Rirootamm, Dorni, Anya.